Sono partiti in queste ore i tanto attesi bonifici per gli obbligazionisti della Dei Ulema. Si tratta di un riparto con una percentuale del 20,6% relativo alla transazione da 180 milioni di euro con la banca maltese. Un risultato considerevole rispetto alla media dei fallimenti italiani. In arrivo dunque in città un afflusso di denaro che non si vedeva da molto tempo e che consentirà una ripresa dell'economia a 360 gradi. Ne abbiamo parlato negli studi di TV Siti con l'avvocato Giuseppe Colapietro. I bonifici sono partiti, quasi tutti quanti. Tempo tecnico di essere accreditati sui conti correnti, ma so che già ieri sera qualcuno esultava perché ha avuto il cosiddetto bonifico quello diciamo importante, che è relativamente alla transazione Banco Wallet. Di che cifre parliamo, avvocato? La transazione l'abbiamo fatta a maggio e era di 180 milioni. Proveniva da una sentenza in primo grado emessa dal Tribunale di Torre Anunziata, dove ci ha visto vincitori per 360 milioni. C'è stato un appello molto duro, iniziato, poi tutti gli organi fallimentari hanno deciso di effettuare una transazione su richiesta della Banco Wallet e quindi abbiamo transato per 180 milioni e oggi abbiamo un riparto con una percentuale del 20,6. Una percentuale atipica, difficile da raggiungere in un fallimento? Se la confrontiamo al 100% perso è chiaro che siamo bassi, ma se lo confrontiamo alla media nazionale dei fallimenti, chi fallisce non lascia nulla. Questo è un fallimento sui generi su due. Fortunatamente chi ha fatto le indagini ha trovato tantissimo. Quindi abbiamo recuperato fino ad oggi il 6%. Con il 20,6 siamo a delle percentuali mai visti in nessun fallimento italiano. Se rapportiamo il tutto al 100% può sembrare poco e quindi che abbiamo perso tantissimo. Però se lo rapportiamo alla media dei fallimenti, il 20,6 più il 6% già fin ad oggi recuperato, era certamente una percentuale importante. Dunque dopo una vicenda che dura ormai da oltre 10 anni, finalmente arriva un po' di ristoro e di serenità per gli obbligazionisti. Sì, veniamo da un periodo di due anni e mezzo in cui non c'era stato nessun riparto. Quindi siamo fermi al 2019 con delle percentuali molto basse, 1,5, 2, 2,5, massimo 3. Dopo due anni e mezzo fortunatamente tutti i creditori vedono una percentuale molto grossa. Questo mi fa estremamente piacere non soltanto per i creditori, ma per la città di Torre del Greco, che finalmente comincia a vedere un afflusso di denaro che da tantissimo tempo non si vedeva. Ricordiamo che questo crack ha letteralmente messo in ginocchio l'economia della città. Sì, non dimentichiamo che il crack di Ulema veniva dopo il crack di Maio, quindi una città che in due anni veramente è stata la Sassuolo. Attività commerciali chiaramente allo sbando e cittadini che chiaramente avevano perso tutto quello che avevano accumulato nel corso degli anni. Assicuriamo ulteriormente gli obbligazionisti che ci sono proprio i tempi tecnici per questi bonifici. E io su questo sono molto chiaro e sono anche molto duro, nel senso che noi non vogliamo un attimino comprendere, perché lo dimentichiamo molto spesso, che non siamo 10 obbligazionisti, siamo 13.000. Gestire due fallimenti della portata di 13.000 obbligazionisti è una cosa immane. Noi abbiamo la fortuna, nella sfortuna di incappare in questo fallimento, di avere avuto dei giudici delegati e dei tribunali che hanno lavorato sodo, attività investigativi che hanno lavorato sodo, se non eravamo al punto in cui siamo. Alcuni avvocati che hanno lavorato sodo, comitatori creditori che chiaramente hanno lavorato, curatela, hanno fatto un lavoro certosino. Oggi fare un diparto per 13.000 e quindi fare gestire alle banche 13.000 assegni e bonifici. Teniamo presente che ogni obbligazione molto spesso si divisa con gli eredi e quindi ovviamente un solo soggetto diventa 4 soggetti. Quindi è una procedura molto particolare. I bonifici sono partiti, quindi nei prossimi giorni arriveranno tutti. Gli assegni, anche gli assegni, sono in via di definizione. Non è soltanto la banca di torri annunziata che mette gli assegni, ma anche il servizio meccanografico della sede della Credem che sta lavorando sull'emissione degli assegni perché dipende dal taglio. Abbiamo atteso due anni e mezzo, se attendiamo un'altra settimana non succede nulla. Tanto è sicuro, il diparto è sicurissimo. Ricordiamo in conclusione che ci sono altre trattative in corso relativamente ad altre transazioni. Ci sono delle trattative con dei trass riferibili alla famiglia della Gatta e una trattativa in corso con il trass riferibile alla famiglia Giuliano. Ci sono delle ottime speranze di riavere un nuovo diparto. Io lo spero, noi non molleremo mai, sono 10 anni che non molliamo e siamo sempre qui vigili.